Non si ferma il lavoro della Procura della Repubblica di Castrovillari sul caso delle gole del Raganello. Nei giorni scorsi si sono definitivamente chiusi gli accertamenti tecnici sui luoghi interessati dalla tragedia che lo scorso 20 agosto ha provocato la morte di 10 persone. Gli lievi tecnici sono in realtà ancora, almeno per quanto riguarda i sopralluoghi, sono stati pressoché ultimati. Si tratta ovviamente adesso, attendiamo gli esiti del nostro collegio di consulenti. All'esito prenderemo le nostre determinazioni. Ci sono delle responsabilità, responsabilità anche molto gravi. La Procura continua a lavorare per individuare le responsabilità di quanto accaduto e non si esclude la possibilità che possono esserci nuovi indagati. Questo lo valuteremo quando avremo in mano tutte le carte. Ovviamente non è solo l'indagine tecnica, ma è un'indagine anche correlata a tutta un'altra serie di accertamenti.